Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il fatto che allarga il suo racconto della prossima tornata amministrativa in Abruzzo con i protagonisti di quelli che saranno gli scontri nelle città più importanti della nostra regione. Oggi ci occupiamo del Comune di Montesilvano, iniziamo ad ascoltare e a ospitare nei nostri studi i protagonisti di questa sfida elettorale e saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito Fabrizio D'Addazio, candidato, buonasera D'Addazio, per un ampio schieramento a trazione centrosinistra nel centrosinistra per cercare di contrastare Ottavio De Martinis, il sindaco uscente e non sappiamo ancora se ci sarà anche il candidato della Lega Aliano. Per quanto riguarda questo turno elettorale D'Addazio, la coalizione del centrosinistra allargato ha scelto la sua figura dopo una riflessione che non è stata particolarmente lunga, ma comunque credo convinta, visto che c'è un'ampia adesione alla sua proposta politica e amministrativa per la città. Lei non è nuova alla politica, non è oltre che essere un noto imprenditore, non è estraneo alla vita della città di Montesilvano nel suo ruolo amministrativo precedente. Chi è Fabrizio D'Addazio? Buonasera a tutti, Fabrizio D'Addazio è un imprenditore di Montesilvano con il suo passato vicino alla politica dal 2000, intorno agli anni 2000, ho avuto una breve esperienza in amministrazione, poi sono stato sempre un po' dietro le quinte, sempre coerente con la mia coalizione, con la coalizione del centrosinistra, ho aiutato nel tempo chi si è candidato nelle varie tornate elettorali e adesso è arrivato un po' a questo punto, mi è stata chiesta la disponibilità, di dare la disponibilità a ricoprire questo ruolo, dopo diversi ripensamenti mi sono convinto e sono qui ad appoggiare, avere con me tutta la coalizione del centrosinistro, una coalizione allargata anche al Movimento 5 Stelle, ai Verdi Italiani, c'è una lista civica del PD. Quindi una proposta politica alternativa a quella del sindaco Ottavio De Martinis, ma più in generale al centrodestra, come è amministrato la città secondo lei De Martinis? In questi ultimi anni, parliamo degli ultimi 16 anni, la città è stata amministrata dal centrodestra a Montesilvano, si è fatto, sì qualcosa si è fatto, però secondo me e secondo anche i cittadini c'è tanto ancora da fitta e c'è tanto da rivedere quello che è stato fatto anche, ultimamente non se ne parla bene di questa amministrazione, è vero che sono vicini ai cittadini, però c'è anche una forte parte di amministratori che fa solo il clientelismo sul territorio. Di Lamentele adesso siamo già usciti, noi siamo già usciti in campagna elettorale, stiamo andando verso i cittadini e di Lamentele ne stiamo sentendo tanto, a partire dalla viabilità, dal verde, dalle strutture, un po' di tutto, c'è da lavorare. La sua campagna elettorale è iniziata in una maniera particolare che è quella di un track, di una struttura mobile, di un ufficio elettorale, in cui lei sta girando, perché ricordiamo Montesilvano è un territorio molto esteso, tutte le varie aree della città, quelle in cui ci sono stati più interventi, ma anche e soprattutto quelle più dimenticate. Sì, noi abbiamo scelto di fare questa campagna elettorale un po' itinerante, abbiamo attrezzato un mezzo, con questo mezzo noi raggiungeremo tutti i cittadini, saremo noi ad andare dai cittadini, non i cittadini a venire da noi, quindi abbiamo fatto sì che non avremo tanti punti sul territorio, avremo un solo comitato elettorale che per legge ci deve stare per forza e con questo mezzo noi attraverseremo tutta la città, è un mezzo attrezzato che parlerà di noi, parlerà del nostro programma e andremo dal mare alla montagna e dal nord a sud passando attraverso quelle zone un po' poco attenzionate ultimamente. Il sindaco sciente è anche presidente della provincia, alla regione governa il centrodestra, c'è il governo nazionale Meloni, è inevitabile che uno dei temi di questa campagna elettorale sarà quello relativo all'argomentazione di una filiera politica che potrebbe aiutare di più la città di Montesilvano, è stato così in questi mesi e potrà essere così nei prossimi 5 anni secondo lei? L'aria diciamo che tira ancora dalla parte loro, dalla parte del centrodestra, però già dalla tornata elettorale regionale ci siamo accorti che qualcosa sta cambiando, il nostro candidato, il professor D'Amico era partito che era perdente in partenza, poi piano piano come è iniziata la campagna elettorale abbiamo avuto qualche sentore che comunque si poteva riportare qualcosa verso il centro-sinistra, ce l'abbiamo messa tutti, io dico ce l'abbiamo messa perché tutti quanti abbiamo dato il nostro contributo e alla fine abbiamo sfiorato anche di vincere perché su diversi territori il centro-sinistra vinto, abbiamo perso all'Aquila, abbiamo perso, però comunque anche lì siamo presenti a fare opposizione al Consiglio regionale. Ecco, leggendo proprio i dati sulla città di Montesilvano, delle ultime regionali, quali indicazioni sono arrivate e quali speranze nutrono anche questa sfida un po' più importante per quel che riguarda la città? Ma guarda, io mi sento di fare un rimprovo al centrodestra perché in primis questa è una mia opinione che penso che sia un'opinione di tanti, il centrodestra avendo candidati forti, governando la città, governando la regione, governando il nazionale, non è riuscito a mettere un candidato di Montesilvano alla regione, tre partiti della coalizione hanno candidato tre persone, ognuno del proprio schieramento, alla fine nessuno è rientrato a governare, noi con la nostra forza che comunque sta rinascendo, sta tornando su, alla fine siamo riusciti ad avere un buon risultato, per i due consiglieri regionali che abbiamo, abbiamo dato un buon contributo. Ecco, chi sarà il sindaco dopo questa sfida elettorale di giugno? Lo sarà per due anni, due anni e mezzo, perché questa, e quindi comunque entrerà nella storia, perché sarà l'ultimo sindaco di una città che si chiamerà Montesilvano, ecco questo al di là del rammarico che ci può essere dal punto di vista affettivo sul nome, è però un momento decisivo per il futuro della città. Come vede lei la nascita della grande città che si sta realizzando e che è in corso? Sì, effettivamente questo mandato è un po' particolare, particolare però è importante, è importante, è come ha detto lei benissimo, è un mandato che passerà la storia, sarà l'ultimo sindaco per Montesilvano, però questo non debba significare che comunque Montesilvano non avrà il suo valore, non manterrà la sua identità, questo mandato è importante anche perché chi andrà a governare ha comunque un impegno molto importante e questo sarà uno dei temi principali della campagna elettorale, ma soprattutto sarà un tema importantissimo durante questo breve mandato di due anni e mezzo, noi dobbiamo essere bravi a portare avanti questo progetto di questa fusione di tre comuni e far sì che comunque Montesilvano sia protagonista e non spettatore di questa fusione, di questa fusione di tre comuni come ho detto prima, quindi noi abbiamo tanto, Montesilvano ha tante potenzialità per essere protagonisti in questo scenario. Ecco, entriamo nel vivo dell'assetto attuale della città, c'è un tema legato allo sviluppo urbanistico forse eccessivo, anzi sicuramente eccessivo degli ultimi decenni, quindi non è una cosa che può essere ascritta al centro-destra o al centro-sinistra, ma c'è una potenzialità ancora non del tutto espressa su altri fronti, quale sarà la specifica vocazione di Montesilvano nell'ambito non soltanto della grande città, ma della Montesilvano del futuro come località del medio adriatico? Sicuramente Montesilvano è una città a vocazione turistica, turistica balneare, quindi a mio avviso la città deve crescere, in prospettiva di questa nuova fusione avremo un litorale lunghissimo, bisogna lavorare su tanti fronti, bisogna lavorare sul turismo, in primis per quanto riguarda la balneazione, ma soprattutto bisogna, in prospettiva di questa nuova pescara, bisogna lavorare sulle infrastrutture e soprattutto sulla viabilità e sul piano traffico, si parla di petonizzazione della statale, che sarebbe il Corso Umberto, la strada più trafficata di Montesilvano, prima di fare questo a mio avviso bisogna guardare oltre, bisogna spostare i tir dalla statale, spostare i tir dalla statale significa trovare un'alternativa, quindi andare a trovare quelle soluzioni per poter petonalizzare eventualmente il centro di Montesilvano. Lei ha detto che il programma è ancora in costruzione, ma lo sarà in queste settimane, soprattutto non tanto per ciò che ci metteranno dentro i partiti, ma anche, soprattutto, quello che ci metteranno dentro i cittadini. Sì, infatti noi questa campagna elettorale l'abbiamo già iniziata da due settimane, stiamo raccogliendo tutte le proposte dei cittadini e stiamo andando verso i cittadini con questo mezzo di tirante che abbiamo citato prima, proprio per capire le dinamiche e le aspettative dei cittadini, quindi penso che a fine settimana avremo le liste complete, preparate le liste, faremo un'altra presentazione e presenteremo anche il programma, che sarà un programma condiviso da tutta la coalizione. Ecco, ma lei personalmente qual è il primo punto, come si dice solitamente, i primi cento giorni, quando si va a cambiare soprattutto un'amministrazione comunale, cioè la cosa a cui tiene di più e per la quale, essendoci due anni e mezzo, poi magari noi le auguriamo di fare il sindaco anche della grande città, però insomma, che è fattibile, che è una cosa che poi i cittadini potranno percepire, di dire, ecco su questo ha messo l'impronta Fabrizio D'Addazio da sindaco. Fabrizio D'Addazio da sindaco è la prima cosa che farà innanzitutto formare una bella squadra, una squadra competente con delle persone giuste messe al posto giusto, perché per amministrare così, io sono un amministratore di azienda, quindi a mio avviso per amministrare un comune è la stessa cosa che per amministrare un'azienda, ci vogliono quelle persone giuste collocate al posto giusto, poi si va sul territorio e si vedono le priorità da fare. Lei può contare, conoscendo insomma anche chi sono i responsabili delle varie liste su una forte serie di competenze? Ma non necessariamente queste competenze vengono prese all'interno delle liste, saranno in indicati dai partiti, poi sarò io insieme a una squadra a scegliere le persone competenti. Bene, allora io prima di chiudere le voglio chiedere intanto una cosa relativa alla situazione politica generale abruzzese. che segnale sarebbe una vittoria del centro-sinistra nell'ambito di un Abruzzo che appunto anche nei piccoli centri è un po' diviso a metà in qualche modo, ma in una città così importante c'è anche un valore politico oltre che amministrativo per una sua vittoria? Sì certamente, Montesilvano, vincere a Montesilvano, il centro-sinistra che vince Montesilvano sarebbe un po' quella continuità che si sta sentendo nell'aria, ecco come ho detto prima dopo la tornata elettorale che era persa in partenza e poi siamo arrivati lì, abbiamo sfiorato anche la vittoria, potrebbe essere un buon segnale anche a livello nazionale e segnerà sicuramente la ripresa del centro-sinistra. Benissimo, io ringrazio e do in bocca al lupo a Lorenzo Dardazio così come sarà per gli altri candidati che saranno presenti nei nostri studi in quest'ultima settimana che poi precede la par condicio perché poi inizieremo con le tribune elettorali, quelle in cui sarete a confronto tra di voi con i sistemi e le regole che ci sono imposti dalla legge. Questa prima serie di interviste sarebbe un po' a conoscere più da vicino i candidati che al momento sono due o tre perché al momento in cui stiamo registrando questa intervista c'è ancora un'incertezza nel centro-destra se rientrerà questa frattura con la Lega o meno e lo sapremo appunto nelle prossime ore. Questo che significa l'ultima domanda veramente che le faccio da Dazio? Significa che comunque noi siamo usciti già da due settimane sul territorio, il centro-sinistra è compatto, tutte le liste stanno con me, con la coalizione e dall'altra parte abbiamo assistito in questi giorni a una spartizione del potere, è brutto dirlo però il segnale che i nostri competitor hanno dato è proprio questo, perché un sindaco uscente che non viene ricandidato, non viene acclamato penso che qualche problemino ci può stare, comunque noi continuiamo, io sono stato acclamato da tutta la coalizione, sono fiero di questo, sono e quindi ce la metterò fino alla fine per ottenere il risultato. Grazie ancora da Dazio e grazie ancora ai nostri telespettatori per averci seguiti, appuntamento a domani con Il Fatto, riflettori ovviamente puntati sulla politica, arrivederci!